buongiorno da ilenia e da morgana allora abbiamo lo sfondo di shimmery shine e quindi cosa apriamo oggi morgana? delle blind bag del shimmery shine oggi apriamo le teeny genies sono praticamente queste io le ho viste le ho viste recensite giusto sul canale di elisa a rincess io l'adoro quella ragazza mi piace come fa i video e poi spiega bene tutto quanto e niente allora visto che le ho trovate ho voluto comprare anch'io io purtroppo non possiamo aprire una scatola intera come come lei però iniziamo ad accontentarci di tre vediamo cosa troviamo se vi piacciono magari possiamo aprirne delle altre più avanti sempre se le trovo l'edicola dove sta andando ultimamente è molto fornita però però giustamente è una delle poche edicole fornite della zona e quindi oggi vai trovi qualcosa domani non vanno domani è vuota niente allora io direi iniziamo ad aprirne una ti serve la forbice? nooo io te la prendo la forbice di fresh la forbice di fresh bianca nera e poi il tuo fresh che fine ha fatto? e allora no fresh è al natural e wine perché prossimamente forse prenderà qualcosina allora questa qua è la bustina bella si carina io sinceramente vorrei trovare la tigre che mi piace tantissimo ah ecco qua c'è proprio la c'è dice che ci sono 130 più di 130 personaggi oh mamma mia però io nell'apertura sinceramente ho visto solo questi qua il draghetto ari l'aveva trovato tutti questi qua questa qua è stupenda lei l'ha trovata ed è bellissima l'ha trovato questa questa se sono perlati l'ha trovato shimmer forse non c'è sembrano perlati sì vabbè questo qua comunque è la rivista che trovate dentro è della mattel costano 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 mi sembra 2,99 non lo sto vedendo è possibile 2,99 sì eccolo qua ah ecco rivista più bustina questa vabbè questa rivista la trovate tra l'altro neanche farla apposta il disegno è praticamente quasi uguale uguale alla rivista che abbiamo trovato è vero scusate sto mangiando una caramella per la gola sono un po' raffreddata portate pazienza quindi questa è la rivistina che trovate dentro scimeretta la shiny nahal lea e parisa parisa che carina ma questo si può trovare zac zeta e nazbo nazbo oh che carino oh che carina il trappetto è il trappetto bello nazbo eccolo qua tutti hanno l'annellino con il tappeto magico chi c'è l'argento chi c'è la oro l'ho vinto dei giochi da fare questi altri giochi differenze differenze e qua finito questo è il castello allora l'apriamo prima aprile tutte tanto la rivista è uguale per tutti quindi togliamo la rivista e tiriamo fuori solamente le bustine allora incomincio te mamma incomincio io ne apro una io allora vediamo io non le ho toccate non le ho tastate prima di non si può neanche tastarle si no vabbè a me l'asciura me lo fa anche fare curiosiamo insieme curiosiamo insieme che bella e abbiamo trovato non mi viene in mente come si chiama yeee la trovo io principessa Samira eccola lì vedi al tappeto argento bellissima col suo gioiello andiamo a guardare i capelli sono brillanti guarda che sono quasi come le mie unghie poi ecco non fate caso le unghie perché me le sono fatte io stavolta e non sono il massimo della vita sto imparando sto imparando a farmi le unghie ecco uno e due shimmer and shine praticamente viene così guardate quanto è carino mo dai è bella cosa dici? è bellissima e c'è sul nome? ah si su ogni ma guarda che bello e a te va bene ah non ti va bene briciola sto sul mignolo c'è dentro o altro? no no li apro io questi due si aprile tu intanto poi aspetta che siamo sfocati con il mio anello gigante sai che sei rimasta troppo alta no sono un po' no 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 magari senza tagliare tutto no è doppia? si no non ci credo no 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 vabbè questa è mia allora me la metto via io ok ascolta me la metto me la metto in vetrinetta yeah shimmer and shine tanto scusa non ti si vede il dito niente devo comprarne ancora sono in astinenza da lol scusate ma sono in astinenza da lol non le sto trovando da nessuna parte vediamo un po' cosa tagliamo devo aprire blind bag cadastro assolutamente ed ecco a voi la terza principessa no aspetta no no dai no non è no no non è lei no bella Anna Rosa Morgana mi avevi già fatto venire un colpo cos'ha? muove il corpo? lei no invece si alcune muovono la testa Morgana io domani vado in edicola le compro ancora ne abbiamo 200 domani e per che laate suon altro niente no vabbè shimmer and shine shimmer and shine no 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 nono lo tappeto mare no dai mi piacciono tantissimo queste sono le due perché l'altra è simpia e vabbè Dai, sono carinissime Stavo guardando che sono veramente carine Sono belle Sono fatte bene Anche se sono piccole, però sono fatte bene Bello, ma mi piacerebbe trovare gli animaletti Nazbuta, Ala e Nahl Vabbè Aspetta che facciamo vedere velocemente Questi qua sono tutti i personaggi che si possono trovare Anche dietro c'è E dice che sono più di 130 No, vabbè, ma sai cosa si può trovare? Anche il pavone, sì, stavo guardando Aspetta che siamo fuori fuoco Il gattivo, sì Gli animali si possono trovare tutti Eh Beh, ma questi qua però non si possono trovare dentro Perché io ho visto quando ho aperto Quando Elisa li ha aperti Ha trovato solo questi qua Quindi questi qua, secondo me, sono gli unici che si possono trovare Però Oddio, ho perso la mia Ecco, questa qua me la metto in vetrinetta No, 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 no Scusate Ok Scimera in shine, scimera in shine Vabbè Spero che questo video vi sia piaciuto Ecco Noi vi salutiamo E se vi fa piacere Magari scrivetecelo nei commenti Se vi va che ne apriamo ancora Fatecelo sapere Magari diteci quale avete preferito Tra la principessa Samira E Anna Rosa Anna Rosa e la principessa A me piacciono tutte e due Sinceramente Sì Non ho Non saprei Quale Poi con il tappeto Wiii L'anello è decorato comunque Vedi? Che sia la Gemma Bene Quindi noi vi salutiamo Vi mandiamo un bacione Grosso, grosso, grosso E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao